C'erano dei pregiudizi in Natanaele, ma vennero smontati con una sola frase di Gesù. Natanaele viene a sapere addirittura che Gesù sa quello che lui aveva fatto di nascosto. Quindi questo gli dà la convinzione che colui che gli sta parlando è sicuramente una persona straordinaria. Mettiamo da parte ogni pregiudizio. Siamo tutti uguali, perché tutti abbiamo avuto bisogno della grazia di Cristo. Grazie.